salve amiche e amici nel video di oggi parleremo della situazione in ucraina con argomenti piuttosto delicati e complessi quindi mettetevi comodi in sintesi gli argomenti saranno la situazione al fronte le perdite ad oggi e giornaliere alcune notizie di una fabbrica di artiglieria russa in fiamme la vista aerea della città di kharkiv e poi il pezzo forte di oggi è l'analisi di un audio integrale di un pilota russo di su 34 che viene ingaggiato da un patriot ucraino come sempre cari amici se volete sostenermi e darmi la forza di continuare con questo lavoro iscrivetevi al canale lasciatemi un mi piace qui sotto trovate tutte le funzioni di youtube per farlo compreso eventualmente l'apponamento al costo di un caffè al mese o i super grazie quindi non perdiamo tempo e andiamo avanti e vediamo cosa è successo in questi giorni i russi in queste ore hanno provato a sfondare il confine ucraino nella regione di sumi qui molto a nord precisamente a nord ovest dell'area di vojciask dove sono impantanati da mesi e stanno perdendo posizioni i report da quest'area arrivano dai soldati ucraini da delle posizioni molto ben difese rinforzate adeguatamente l'attacco russo in questa parte del confine così è stato respinto la stessa cosa sta accadendo proprio nell'area di vojciask vi ho già parlato nei video precedenti che i russi in queste due aree continuano a perdere quartieri in quello che ormai è diventato un tentativo completamente fallito e privo di senso da parte loro considerate soprattutto le enormi perdite che hanno subito da maggio fino ad oggi quella che vi mostro in mappa sono infatti i loro progressi dal 10 maggio fino ad oggi che vi scrivo a 18 luglio 2024 tutto questo al costo di decine di migliaia di uomini e mezzi nelle parti delle città liberata di vojciask sono stati trovati diari di soldati russi è una pagina in particolare in cui un soldato ha preso nota di tutti gli attacchi con droni subiti nell'arco di 24 ore non esagero che su questi poveretti piovono bombe e droni esplosivi con un ratio di 1 ogni 10 15 minuti per tutto il giorno nonostante l'enorme ratio di perdite la russia conserva questo atteggiamento per cui in qualche modo vuole dimostrare di essere sempre capace di mandare uomini al fronte con un enorme numero di mezzi ondate su ondate questa cosa ovviamente non ha senso per gli analisti militari ed economisti tutti continuano a parlare di una vera e propria follia tattica con l'utilizzo sempre più evidente di vecchie tecnologie dell'era sovietica è piuttosto chiaro che con questo andazzo non potrà continuare a sostenere il conflitto a lungo si parla del 2025 come momento critico in cui si ritroveranno senza più niente da mandare avanti la produzione bellica russa è stata portata già al suo limite la mancanza di forniture occidentali componenti tecnologiche come ottiche sistemi di puntamento ed elettroniche sono state apparentemente compensate o sostituite dalla cina ufficialmente la russia dichiara di assumere 40 mila soldati al mese per la sua operazione speciale ma fonti più realistiche e indipendenti parlano di 25 20 mila soldati al mese il problema è che anche a dare un'occhiata veloce su x vi sconsiglio vivamente di farlo perché servono stomaci molto molto forti e anche a guardare le statistiche prodotte da tutti i maggiori siti internazionali il ratio di decessi fra le file russe è facilmente stimabile in migliaia di soldati al giorno più quelli che spariscono e tutti quegli altri feriti quindi fatevi due conti tutto questo mentre dati di intelligence nato parlano di 470 mila soldati russi inviati ad oggi a combattere in ucraina le fonti del cremlino parlano di 700 mila soldati per quanto riguarda invece i mezzi pesanti quello che si vede sempre più spesso sono vecchie glorie degli anni 60 rimessi in sesto alla belle meglio e mandati al fronte gli stessi soldati russi se ne lamentano delle pessime condizioni di questi mezzi ripescati da depositi dove erano stati lasciati a marcire per decenni e capirete spero che enormi distese nel fango o in siberia non rappresentavano le condizioni ideali per conservare dei carri all'aperto per carità conservare carri all'aperto non è un problema lo fanno tutti ma per esempio gli americani hanno scelto questi depositi proprio nel deserto perché le condizioni dell'aria sono molto aride soprattutto smontano e mettono da parte tutte le varie componenti e li depositano in container dedicati insomma lasciare al macero migliaia di carri armati della guerra fredda in zone umide ha prodotto questi risultati rimetterli in sesto adesso è un'arma a doppio taglio letteralmente ho già trattato questi argomenti nel video dedicato alle perdite insostenibili per tornare alla situazione del fronte l'offensiva sud est verso new york è ancora in atto su questa strada che costeggia due colline ci sono state migliaia di vittime diversi canali internazionali su youtube riportano questa lista per esempio di 194 soldati russi scomparsi gli scomparsi cioè parliamo di persone i cui corpi non sono stati identificati non è stato possibile identificarli quindi questo numero forse ci dà un'idea di quello che è successo io voglio solo farvi notare l'età di alcuni di loro ragazzi di 20 anni o poco più in un video un ufficiale russo del 138esimo reggimento motorizzato ha parlato a proposito delle perdite subite ufficialmente dice che ci sono state 6.000 vittime ma non ufficialmente 12.000 nella stessa brigata e il motivo è questo lui dice arrivano soldati che sono sempre meno preparati senza addestramento arrivano al fronte in un viaggio a senso unico spariscono e pochi giorni dopo devono essere rimpiazzati da altre tante persone senza addestramento anche da parte ucraina oggi segnalo alcune perdite significative per esempio nella zona a sud presso il nipper river fra kozaki laeri e krinki 788 soldati ucraini risultano dispersi il comando ucraino vedendo l'impossibilità di sostenere la testa di ponte oltre il fiume ha deciso di ritirarsi da quest'area ovviamente la propaganda russa ha accolto l'occasione per annunciare la grande vittoria con la presa di questi piccoli quartieri peccato che per mesi e mesi sono stati trincerati e chiusi in questo scenario con feroci scontri casa per casa e migliaia di soldati russi sono stati uccisi fra le altre cose i colpi dell'artiglieria ucraina in queste foreste aveva ammietuto centinaia di vittime fra le file russe accampate all'interno sviluppando incendi favoriti dall'enorme ondata di caldo che ha colpito e sta colpendo l'ucraina in questi giorni nel frattempo le città russe a nord e a sud ovest come belgorod e rostov sul don sono rimaste al buio questo grazie ad attacchi strategici condotti con droni ucraini subito dopo l'attacco russo dell'otto luglio su kiev i russi da mesi avevano preso di mira le centrali elettriche in ucraina quindi il comando strategico ucraino ha pensato bene di ripagarli con la stessa moneta questi attacchi sono stati molto efficaci specialmente perché le componenti per riparare le infrastrutture elettriche in russia arrivavano prima della guerra dalla germania da parte del cremlino sono arrivate dichiarazioni surreali in proposito per cui non si segnalano affatto problemi elettrici e i bersagli colpiti dagli ucraini erano delle semplici miniere va bene in ambienti militari e anche al di fuori di questi l'atteggiamento del regime è quello della cosiddetta tunnel vision quando per intenderci ti si chiude la vena cioè non riesce a vedere nient'altro che l'obiettivo e trascuri il semplice fatto che attorno a te a 360 gradi stanno succedendo cose che ti stanno condannando a una sconfitta eclatante questo aspetto psicologico da ignorare le perdite e il pericolo rappresenta al momento un enorme vantaggio per l'ucraina in questo momento non è un aspetto da sottovalutare cioè finché i russi continuano a mandare avanti al massacro mezzi e uomini gli ucraini ne possono tranquillamente approfittare da una posizione difensiva per concludere la situazione a fronte è questa e andiamo avanti i russi comunque stanno conquistando alcune aree nei pressi di karlivka confrontandosi con gli ucraini al di là del fiume in questo momento e così stanno andando avanti anche nei pressi di karlivka e zelitne piccoli progressi è chiaro da parte loro ma inutile ricordarlo al costo di enormi perdite umane sempre ora prendendo alcune pagine del social media x con i reporter di guerra e gli analisti militari americani vi mostro un paio di paginette questa per esempio è la paginetta aggiornata dei mezzi distrutti in un giorno precisamente due giorni fa prodotta da andrew perpetua sulla base dei dati in intelligence ucraina e americana possiamo vedere e confermare per esempio gli s 300 di cui se ne è parlato anche nei telegiornali diversi pezzi di artiglieria carri armati t 72 e anche un t 62 dio mio questo carro non si vedeva in giro dai tempi della guerra del vietnam poi una lista molto lunga di mezzi come bmp btr apc e vari tipi di camion e poi motociclette lada e lada niva pick up e golf cart e altre varie considerando che tutti questi mezzi erano pieni di persone da un minimo di uno fino a un massimo di 16 fatevi due conti da fonti ucraine questi sono i dati riportati oggi poi delle perdite in generale del conflitto prendete questi dati come volete potete crederci o meno ho già trattato ampiamente questo argomento su un video dedicato proprio alle perdite oltre mezzo milione di soldati russi hanno perso la vita più di due anni di conflitto in più di due anni di conflitto secondo le fonti c'è questo che poi questo numero sia vero o meno non importa se anche fossero la metà sarebbero comunque centinaia di migliaia in ogni caso per quello che posso dire io il numero per esempio degli abbattimenti aerei di 361 è confermato perché ci sono i rottami ci sono i piloti catturati ci sono i video che confermano questo poi come vedete ci sono oltre 8.000 carri 15.000 mezzi 28 navi 326 elicotteri ricordiamo che se anche la russia fosse stata la nazione più potente del mondo come la descrivono i pioccaniti sostenitori e fan con numeri tre volte più grandi di quelli degli stati uniti e questa paginetta fosse veritiera significherebbe che in questi due anni hanno perso più di due terzi di tutto il loro organico fatevi due conti ma andiamo avanti in queste immagini vi mostro a eltarimburg in russia è in fiamme uno degli stabilimenti della ultra smash che praticamente l'azienda che produce produce l'emsta s che sono sistemi di artiglieria non è chiaro se ci sia stato un attacco con droni o l'incendio sia dovuto ad altri fattori è una notizia di poche ore fa così come questo piccolo video di osin technical di poche ore fa dove si vede un pilota di mig 29 ucraino in alcune missioni da attacco al suolo il mig 29a è la prima serie di questo aeroplano russo dalle buone prestazioni ma assolutamente adattato per il 2024 eppure vola ancora e fa il suo lavoro in queste immagini si vedono sotto i piloni per esempio 4 r73 che sono missili a corto raggio russi a guida infrarossa e poi cosa molto più interessante si vede questo mig 29 lanciare degli agm 88 che sono missili americani anti radiazione che cioè sono studiate apposta per distruggere i siti missilistici una strategia molto efficace per questi piloti consiste nel attivare cioè stimolare la reazione delle postazioni missilistiche per fare in modo che la gm 88 possa andarsene a cercare e distruggere la postazione in questo modo e può cadere facilmente nel tranello quando aggancia un pilota ucraino l'utilizzo dei agm 88 su un mig 29 presuppone importanti modifiche all'avionica e ai display e anche ai piloni quindi è un lavoro che è stato fatto da qualche tecnico occidentale così come per esempio l'utilizzo delle jdam che si vedono queste immagini e le jdam er per questi aerei che hanno già delle ottime doti di accelerazione e velocità rappresentano un analogo molto più tecnologico ed efficace delle fab russe quelle modificate con le ali le jdam fra l'altro hanno guida gps e inerziale e in particolare le er che sta per extended range hanno le ali e sono bombe di assoluta precisione nell'ordine di metri sul bersaglio e ora passiamo all'ultima parte del video come devo dire la ciliegina sulla torta questo video in particolare mi è stato segnalato da un amico proviene da un canale sempre su x un canale filo russo un vero e proprio fanboy di putin a dire il vero cioè è un tizio che è stato capace di esaltare perfino l'incontro fra putin e kim jong-hun e altre cose ma molto meno edificanti insomma è proprio un fanboy per dirla in parole povere ieri ha pubblicato questo video commentandolo in questo modo adesso ve lo leggo lui dice chiacchiere radiofoniche di un equipaggio di volo su 34 in fuga da un attacco patriot l'equipaggio del bombardiere aveva il compito di attaccare un obiettivo militare dell'esercito ucraino con quattro bombe guidate fab durante l'avvicinamento all'obiettivo il su 34 è stato rilevato dai sistemi di difesa ucraini un aereo di copertura con il nominativo roof ha registrato i lanci dei missili antiaerei sul su 34 e così ha trasmesso le informazioni al suo equipaggio i piloti iniziarono a manovrare per evitare i missili nel frattempo l'aereo di copertura ha scoperto i sistemi di difesa aerea della nas e ha lanciato contro di loro un missile antiradar x 31 p quindi il su 34 iniziò a sparare dal sistema di difesa aerea patriot uno dei missili è stato lanciato a una distanza di 60 chilometri dall'aereo russo ed è stato abbattuto dai cannonieri antiaerei russi al gli altri due sono stati deviati dalle pistole termiche davvero bravi ottimo non ci avete capito niente è normale perché neanche io ci ho capito niente cioè la traduzione sembra infelice ma in realtà lui ha usato proprio questi termini ovviamente la mia prima reazione è stata identica a quella di molti altri che poi gli hanno commentato sotto il video scrivendogli cose non proprio gentili devo essere onesto che per usare un eufemismo si traducono in ma che cavolo stai dicendo sentendo l'audio però ci sono delle cose interessanti ve lo dico in anticipo però l'audio racconta un'altra storia molto diversa dalle fantasie stupide di questo fanboy fra le altre cose lui è stato così ingenuo da passarci l'audio integrale pensando che il suo commento avrebbe convinto centinaia di esperti ed analisti militari quindi il video è molto prezioso e cercherò di analizzarlo passo passo perché ci fornisce un quadro molto preciso e utile per capire il modus operandi dei piloti russi e quando lanciano queste bombe prananti nel video si sentono fra l'altro altre voci di sottofondo fuori campo che sembrano un po commentare l'audio originale non sono state tradotte in ogni caso per cui se qualcuno di voi conosce il russo e sa cosa dicono mi faccia sapere allora se accettiamo l'idea che stiamo sentendo le comunicazioni di volo dell'equipaggio di un su 34 che è un bombardiere biposto con i sedili affiancati sviluppato sulla base del su 27 e che le voci dei piloti sono fondamentalmente due perché appunto c'è pilota e tecnico dei sistemi il pilota si chiama andrew il tecnico dei sistemi si chiama victor le riconosceremo anche se parlerà chiaramente quasi sempre il pilota all'inizio infatti però si sente parlare il tecnico di volo che sta preparando i sistemi dell'aeroplano sta facendo una checklist per l'attacco al suolo quello che viene definito in gergo tecnico fan scene ma questa comunicazione viene interrotta durante questa checklist cioè in realtà il tecnico sta parlando sopra questa comunicazione mentre arriva e infatti arriva una comunicazione piuttosto diciamo ad alta intensità ad alta voce di un tecnico di controllo cioè lente di controllo per dirla all'occidentale il cosiddetto j star c'è una persona a terra che guarda gli schermi radar e la situazione in generale e che coordina tutti i voli tutti i pacchetti mentre fanno attacco al suolo una sorta di controllore di volo e lui dice è stato rilevato il lancio di un sistema antiaereo patriot un lancio su di te vai via dice annulla la missione annulla la missione annulla la missione vai via così il pilota prende la parola e dice ho capito ho capito 754 hai capito sì sì ho capito ce ne stiamo andando il tecnico di volo in questo momento invece esegue l'ordine diretto in caso di un'emergenza del genere cioè ha sentito quello che sta succedendo e mentre il pilota ha preso i comandi e sta facendo la sua manovra evasiva il tecnico di volo fa quello che normalmente si fa in queste situazioni quando si sente la voce abortire la missione e hai ricevuto un missile cioè lui cosa fa lui sgancia i carichi per liberarsi dal loro peso infatti dice shot dice ho lanciato letteralmente ha lanciato cosa ha lanciato tutto il carico l'ho lasciato cadere e poi dice victor quindi il tecnico di volo parla al pilota dice andrew vai verso destra così si sentono entrambi faticare a causa del carico di g sul loro corpi durante tutta la manovra dal controllo di terra si raccomandano a questo punto a voce alta la voce dice 754 allontanati manovrando hai capito il pilota risponde sì sì ce ne stiamo andando risponde il pilota e ancora il controllore dice dannazione stai vedendo qualcosa dietro di te il pilota risponde no non vedo niente appena lo vedo te lo dico parla del missile e subito dopo il controllore in calza ho capito il patriot sembra ancora in guida il patriot funziona dice ok e pilota dice sto guardando dietro di me ma non vedo ancora niente ok a questo punto entra in una fase molto petulante il controllore di volo che dice 754 giusto per dire ce ne andiamo sempre con una manovra mi raccomando il pilota risponde va bene me ne sto andando il controllore dice il patriot continua a seguirti manovra manovra e così andrew risponde sto manovrando subentra a questo punto un altro equipaggio su un altro aereo che da un'informazione di data link suppongo che dice ho visto un lancio su di dei azimuth 350 range 80 11 350 poi dopo questo lo vedremo perché questa è una comunicazione molto molto importante e significativa quindi tenete la mente dice 350 range 80 andrew a questo punto subentra dice veriamo a destra la rotta e 240 go under the angle quindi qui dice qualcosa in russo che riferisce a qualcosa a proposito di un angolo allora per intenderci il pilota sta eseguendo una manovra difensiva in cui si punta il terreno con un alto angolo di picchiata questa in gergo militare si chiama notching e ha lo scopo di eludere un missile in arrivo cioè fargli puntare la traiettoria verso il terreno quindi di nuovo subentra il controllore di volo e dice vai via lancio su di te vai vai via quindi subentra victor il copilota che dice fa degli aggiornamenti di stato e dice adesso siamo a 2000 metri andrew di nuovo il controllore di volo 754 azimuth 350 da te range 70 anche questa è un'informazione molto importante tenete la mente di da 350 350 range 70 a questo punto dall'abitacolo si sente la voce di rita che può sarebbe l'analogo russo della bici in betty cioè la voce femminile del computer di bordo che informa il pilota che è stata raggiunta la vne cioè la velocità al limite per quella quota vuol dire che stanno andando molto molto forte dal contro di volo si sente gridare 25 mila velocità 4000 riferendosi al missile evidentemente e poi sempre lui 754 350 range 55 il copilota chiede a questo punto ad andrew vira leggermente a sinistra ora e lui esegue di nuovo subentra il controllore e continua a gridare viene nella tua direzione manovra 754 via verso destra sotto l'angolo via a destra vai di angolo il missile si sposta sulla sinistra e anche questa è un'informazione importante vedremo poi 754 754 il missile si sposta a destra viene su di te azimuth 350 range 60 copilota victor dice al pilota vai per 120 andrew azimuth 360 range 50 manovra manovra 754 viene nella tua direzione 300 da te azimuth 10 range 50 manovra manovra è questo anche un altro momento cruciale andrew il pilota a questo punto dice sono già basso sono a 300 metri e controllore dice continua 350 range 50 35 754 manovra verso sinistra manovra verso sinistra manovra manovra dai e pilota risponde manovriamo verso sinistra a questo punto ci sono altre comunicazioni sempre sul range che diventa 30 e sempre dall'attore di controllo viene detto ad andrew il pilota manovra sulla sinistra il missile si sta spostando spingi al massimo rpm e andrew il pilota a questo punto dice ho visto un flash ho visto un flash dietro di me il controllore nel frattempo dice il patriot continua a ingaggiare vai via 754 vai a sinistra poi continua a manovrare a sinistra rotta 90 rotta 90 vai di manovra 754 ti osservo dalla posizione a nord di mariupol il missile è passato dietro di te continua per 0 90 e si sente poi a questo punto un'altra voce sconosciuta che dice vai avanti così continua sulla rotta 120 di nuovo il controllore dire il patriot continua il suo inseguimento vai via 813 e 754 siete in contatto 754 sei in contatto puoi sentirmi e andrew dice sì 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 avanti fratello vai via manovra quello dice sto manovrando 754 prendi 120 per la rotta 120 per la rotta hai capito ho capito risponde andrew vai alla massima velocità a quel punto andrew è sotto parecchi g si sente dalla sua voce che è veramente affaticata ed esclama ed esclama diverse imprecazioni dice brutte parole insomma perché parecchio stressato e poi chiama il suo copilota dice victor stai bene victor non riesco a sentirti non riesco a sentirti victor è stato pauroso a quel punto victor cerca di ristabilire l'intercom dice si sente la cucina molto lontana dice si ti sento c'è la connessione adesso e parlano di qualcosa poi andrew dice si vedo già la base più avanti a noi victor dice andrew ho visto un flash dietro di me e mi ha colpito nelle orecchie un flash dietro la coda ho visto abbiamo perso la connessione non sento più il primo canale in radio per niente è tutto rotto qui qui è il 754 e poi altre imprecazioni riesci a sentirmi victor no non riesco a sentirti dice victor tu ci riesci no non ti sento neanche io a questo punto è evidente che i due stanno gesticolando leggono il labiale perché sono molto vicini ma il rumore in cabina è sempre molto forte l'audio non cattura il rumore di cabina più di tanto è sovrastato dal rumore dei motori per cui quello che ne sentiamo è cosiddetto intercom cioè la registrazione dell'audio attraverso il microfono del pilota bene so che è stato un po confusionario però analizziamo un poco questa trascrizione vi spiego un poco quello che è successo all'atto pratico sulla mappa facendogli vedere un po una presunta traiettoria di quello che che è stato deducendolo semplicemente dalle indicazioni di rotta e range rispetto al fronte e dalla posizione dell'osservatore a mario pol allora il su 34 se presumiamo che sia stato questo l'aeroplano impiegato era impegnato nella missione di attacco con bombe plananti quando ha ricevuto un lancio da parte di un sistema patriot ucraino in quell'istante il controllo della missione prende in mano la situazione e inizia a dare direttive a raffica al pilota dandogli continuamente rotta e fornendogli anche informazioni circa la posizione del missile stesso questo si è capito penso per semplificare un po con le cose farò una stima proprio basandomi sui valori azimutali del missile e segnalato dal controllo da terra che come ho detto si trovava nella posizione a nord di mario pol e che presumibilmente sta guardando uno schermo via data link da dati forniti via e vr cioè una grande antenna radar posta a terra o forse da un antonov a 50 l'equivalente dell'awax americano entrambi questi sistemi sono perfettamente in grado di rilevare un grosso missile a medio raggio come quello di un patriot americano almeno dal momento del lancio in poi detto questo vediamo come si sono svolte le cose nel momento in cui il 754 che è il nome in codice per i russi per questo volo non utilizzano nickname come si fa in occidente nel momento in cui 754 subisce il lancio gli viene chiesto di interrompere la missione in queste circostanze è abbastanza normale liberarsi del carico specialmente per un bombardiere che è lento ad accelerare e se è carico di bombe e deve evadere un missile la cosa più importante da fare è accumulare quanta più velocità possibile quindi essendo molto pesanti carichi come bombe e missili rallentano tantissimo l'accelerazione e la manovrabilità dell'aeroplano quindi in quel momento come ho detto il copilota armiere tecnico quello che è comunica lo scarico lo sgancio degli dei carichi proprio nel momento in cui il pilota vira per sfuggire al missile in arrivo da quel momento in poi se devo essere onesto l'unica cosa da fare sarebbe stata quella di accelerare e andarsene meglio nella direzione opposta a quella del missile diciamo così perché perché la prima chiamata che arriva dal controllo di terra segnala un 360 gradi per 80 chilometri i russi infatti utilizzano il sistema metrico decimale non sono miglia quindi 80 chilometri bene sappiate che 80 chilometri siamo già oltre il range massimo dichiarato dalle tabelle dei missili patriot quindi che parla di circa 70 chilometri come gittata massima però io direi più una sessantina per essere diciamo normali fare una stima normale per un oggetto che almeno non fa nulla per evadere questo missile ora se andrew il nostro pilota russo avesse iniziato la sua manovra con una semplice splittesse una picchiata o quello che uscendo semplicemente dall'area di ricerca del patriot gli sarebbe bastato andare dritto restando più basso e veloce possibile e lo avrebbe evaso di tantissima misura voglio dire era già fuori dal suo range massimo quando è stato ingaggiato figuriamoci bastava semplicemente andarsene ma quello che si nota dalle comunicazioni è prima di tutto una totale mancanza di professionalità cioè non esistono breviti non esiste un codice non esiste la cosa più basilare come per esempio la disciplina nel parlare delle unità di misura si sente dire 360 10 120 per cifre intere diciamo che solo i ragazzini nei videogiochi fanno questi errori non è il modo di parlare in un ambiente militare perché una rotta o dei gradi bussola devono essere sempre scanditi un numero alla volta altrimenti chi ascolta pensa che siano distanze pensa che siano altre cose così spreca risorse mentali per capire cosa si sta dicendo ripetere poi più volte di continuo le cose è proprio sbagliato non si dovrebbe mai fare in un ambiente militare è un errore da come devo dire più fanatico di calcio da cronista di calcio che un professionista nelle comunicazioni questo ruolo di controllore di volo è molto importante delicato non puoi assegnarlo uno che fa errori così puerili soprattutto se devi parlare con un pilota in panico che sta cercando di salvarsi la vita non aiuta a ripetere le cose mille volte no intendiamoci insomma le comunicazioni di combattimento si devono svolgere con freddezza lucidità e professionalità e lasciando spazio al silenzio e all'azione soprattutto in questi sei minuti di caos e disordine tutto quello che avrebbe dovuto fare il pilota sarebbe stato semplicemente evadere il missile da terra gli avrebbero dovuto dire da dove partiva il missile e avrebbero dovuto dire ok evadi quel missile adesso te la vedi tu è compiuto tuo e magari che ne so ogni tanto aggiornarlo sulla posizione non serviva dirgli tutte quelle informazioni ridondanti perché lo hanno messo in confusione paradossalmente il nostro pilota andrew è restato calmo e si è limitato a seguire gli ordini ciecamente di un controllore assolutamente impreparato e impanicato che è riuscito a generare solo confusione e a dare anche informazioni completamente sbagliate al pilota facendo anche errori molto banali che fra le altre cose a sentire dalle comunicazioni hanno portato al danneggiamento dell'aereo avrebbe potuto farli uccidere in questo modo se il missile che arrivava da nord come indicato infatti non aveva alcun senso chiedere al pilota di andare per esempio per sud est 120 perché quella traiettoria non era neanche flanking rispetto alla fonte posto che comunque sarebbe servita a poco o niente una traiettoria del genere non era comunque la traiettoria che avrebbe massimizzato la distanza fra il pilota e il missile il fatto che il patriot sia riuscito a viaggiare ea colpire per 80 chilometri anzi molto di più se pensiamo o immaginiamo la traiettoria del su 34 anche di miracoloso cioè il controllore di volo ha fatto di tutto per far uccidere il povero andrew che mi spiego solo con manovre fatte malissimo è riuscito a farsi colpire sarebbe bastato andare dritto e restare veloci né più nemmeno e continuava a dirgli manovra manovra ma evidentemente il controllore non è mai salito su un aereo a reazione e non ha la minima idea che manovrare significa rallentare ed è la cosa peggiore da fare in queste circostante circostanze è come dire no è come a hollywood quando vediamo tom cruise evadere i missili di manovra i missili non si evadono di manovra perché un missile può tirare 20 g il pilota in una condizione di stress di questo tipo ne tira 6 di g quindi non c'è nessun verso di battere un missile manovrando un missile si può stancare ma questo è molto diverso dal batterlo di manovra è chiaro che andrew avrebbe semplicemente bastavano due manovre per evadere il missile il primo sarebbe stato scendere in picchiata il secondo magari risalire restando sempre sopra mac 1 poi riscendere di nuovo in picchiata con quindi facendo far fare al missile una sorta di sali e scendi lo avrebbe stancato e avrebbe perso tutta la sua capacità di raggiungerlo voglio dire è normale che nella realtà ci sia confusione nelle comunicazioni nessuno è perfetto ma la confusione la capirei nei panni del pilota come è successo per esempio in tante circostanze in passato in altri casi e altri piloti o per esempio come quel pilota americano di f16 in kosovo che ha evaso qualcosa come 5 sa 6 uno dietro l'altro che gli partivano da sotto il sedere non ti aspetteresti mai che un controllore vada in palla al suo posto in questo modo io a posto di andrew sarei impazzito di rabbia sarei atterrato come una bestia e sarei andato a picchiare questo controllore dentro la sua torre perché ha dimostrato di essere davvero poco professionale oltretutto manovrare in continuazione con un aereo alla sua massima velocità ha esposto inutilmente la vita dell'equipaggio probabilmente anche se non ci scommetterei andrew avrebbe diciamo avrebbe reso mille volte meglio senza un cretino che gli gridava nelle orecchie magari avrebbe potuto prendere la rotta giusta semplicemente guardando gli allarmi nel suo cockpit il suo rvr questo atteggiamento da seguire gli ordini come marionette fra l'altro l'ho già descritto in altri miei video è qualcosa che si vede solo in russia non è qualcosa che si sentirebbe mai in occidente dove il pilota non è guidato così come una marionetta specialmente nella scuola di pensiero americana in una situazione del genere è il pilota è solo il pilota a prendere decisioni più importanti al massimo dovrebbe lavorare con un compagno con un altro aereo che riesce a dedicare gli occhi a questo tipo di situazione infatti gli americani lavorano così in coppia se uno è preso di mira da un sistema misilistico il compagno lo aiuta a districarsi dalla situazione gli fornisce più occhi più assistenza e comunque un pilota deve avere il tempo di agire di ragionare se ha bisogno di informazioni le chiede e da terra sanno in occidente quanto è importante lasciar spazio e tempo e silenzio per concentrarsi e per volare perché parlare ascoltare richiede risorse mentali estremamente preziose in queste circostanze esistono molti casi anche di incidenti aerei di linea in cui i piloti molto professionali hanno interrotto le comunicazioni con le torri di controllo che erano troppo insistenti è una questione di priorità la radio non è mai più importante della propria vita e della vita dei passeggeri l'assistenza radio è un aiuto non deve venire prima di altre cose altrimenti si ha una spersonalizzazione del pilota e lo si priva della capacità di prendere le decisioni giuste nei tempi e nei modi giusti quindi in questo caso l'unica cosa giusta da fare era di aggiornare il pilota ogni tanto ma non così spesso soprattutto sulla posizione del missile e basta lasciargli prendere le decisioni di rotta da solo insomma il controllore di volo ha fatto un errore molto puerile che ho già visto molte volte fare ad altri quello di voler muovere come marionette il pilota ma con informazioni sbagliate e indicazioni che non tengono conto dei tempi delle esigenze e delle velocità in gioco lasciar correre un su 34 a a una velocità come quella del suono in questo caso sarebbe stato più che sufficiente per tenere alla larga e in missile normale normale amministrazione mentre il panico e le informazioni sbagliate date al pilota gli hanno messo più paura addosso di quanto era necessaria e facendogli fare probabilmente zig zag continui continui cambi di rotta con l'unico risultato di rendere più facile ammissi da raggiungere il bersaglio quindi questa ovviamente è la mia idea di quello che è successo quindi fatemi sapere se ne avete altre in ogni caso da come descrivono la cosa nelle ultime battute questo lampo di luce e il suono significa che il patriot alla fine è riuscito a raggiungere l'aeroplano causando vari danni e anche la radio fra le altre cose ma tutto lascia credere che i due si siano salvati per poter raccontare questa storia e quindi per oggi è tutto se qualcuno conosce il russo può verificare quanto è stato tradotto in inglese per favore fatemi sapere ovviamente nei commenti come sempre un abbraccio alla prossima Grazie mille! Grazie mille! Grazie mille! Grazie mille! Grazie mille! Grazie mille! Grazie mille!